e quindi il terzo esercizio sarà il hook laterale dobbiamo fare un movimento ampio da fuori mai incorciare, mai fare un movimento corto dobbiamo fare un movimento pieno da fuori immaginiamo che come un gatto facciamo un gancio, agganciamo la prada con zampa va bene? cominciamo e... 1 più ampio 2 va bene? 3 più forte 4 più ampio 5 ancora 6 più largo 7 pausa per me lavoro